La scuola Calcio Academy, affiliata con il Genova Calcio, con più di 150 atleti iscritti, è sicuramente una bella realtà di Barcellona Pozzo di Gotto. Nonostante sia una società nuova, fondata soltanto nel 2017, ha bruciato le tappe, oggi partece a tutti i campiani giovanili, conseguendo ottimi risultati grazie a uno staff tecnico di qualità coordinato da Ignazio Costa. Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso, perché da tantissimo tempo che sto in questo mondo volevamo dare qualcosa di diverso nel senso di educazione, professionalità e correttezza. Diciamo che ci stiamo riuscendo abbastanza bene, perché abbiamo un buon numero di ragazzi che ci seguono e un bel gruppo di genitori che ci supporta abbastanza con gioia e passione. L'Academy Barcellona è una realtà giovane, siamo nati nel 2017 dalla voglia di creare qualcosa di diverso sul nostro territorio, una scuola Calcio che sia intanto a misura di bambino, che consenta a tutti i nostri iscritti, a tutti i nostri ragazzi di partecipare a tutte le attività che andiamo a svolgere. Noi siamo circa 150 iscritti, dalla Juniores sino ai piccoli amici. Una grande famiglia dove tutti hanno la possibilità di dare un calcio al pallone, che si è riunita per trascorrere una serata in compagnia dei genitori, all'insegna del divertimento e per celebrare anche la vittoria del torneo di Corigliano, riservato alla categoria primi calci. Sì, siamo appena ritornati da Corigliano dove con i primi calci abbiamo vinto il torneo, con il 2012 partecipando sotto età contro bambini più grandi siamo arrivati quarti e per Giunta ci hanno riconosciuto, ritirato il premio Fair Play, che è giusto condividere con gli altri tecnici dello staff, ad esempio con Giunta che li segue quotidianamente più di me, i primi calci. Questo è un incontro importante questa sera per tutti, perché riguarda la scuola Calcio e non solo. Noi integriamo spesso la famiglia, l'aspetto sociale e l'aspetto anche sportivo. La stagione sta per terminare, ma già si pensa al futuro. Il progetto di futuro sicuramente in questi giorni ci riuniremo tutti in società, dirigenti e mister, per cercare di programmare la prossima stagione, che sarà una stagione importante per noi. Sicuramente vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto quest'anno e quest'anno abbiamo fatto bene in tutte le categorie.